Benissimo. Ritorniamo alle trasformazioni di Galileo Galilei, che sono delle trasformazioni che collegano le coordinate di un sistema di riferimento inerziale, che chiameremo S, alle coordinate di un sistema di riferimento inerziale S'. Quindi, ripetiamo che abbiamo scelto i due sistemi di riferimento inerziali, in modo che all'istante T uguale a T' uguale a 0 secondi sono perfettamente sovrapposti. Dopodiché assumiamo che il sistema di riferimento inerziale S' si muova con velocità B costante. Allora, attenzione, ripeto, i due sistemi di riferimento sono inerziali, quindi vuol dire che S' si muove a velocità V rispetto ad S nel passato e nel futuro. E quindi vuole semplicemente dire che all'istante T uguale a 0 i due sistemi di riferimento sono sovrapposti, ma comunque S' è animato da velocità V, sia prima del tempo uguale a 0 che anche dopo. Allora, abbiamo trovato che le coordinate sono collegate in questo modo. Naturalmente adesso, se io voglio, posso ricavare X' uguale a X meno VT, Y' uguale a Y, Z' uguale a Z e T' uguale a T. Allora, a che cosa servono le trasformazioni di Galileo Galilei? Allora, attenzione, noi abbiamo enunciato il principio di relatività di Galilei che dice che le leggi della fisica non dipendono dal sistema di riferimento inerziale, ovvero le leggi della fisica in S' hanno la stessa forma delle leggi della fisica in S'. Oppure, le leggi della fisica in S' hanno la stessa forma delle leggi della fisica in S'. Ma come possiamo verificare, attenzione, che facendo riferimento a Galileo Galilei, più che le leggi della fisica dobbiamo dire le leggi della meccanica. Quindi, ripeto, le leggi della meccanica in S' devono avere la stessa forma delle leggi della meccanica in S' e viceversa. Ma come faccio a verificare da un punto di vista teorico questo fatto? Per poter verificare da un punto di vista teorico questo fatto, io devo operare in questo modo. Allora, attraverso le leggi della meccanica in S'. Allora, attraverso le leggi della meccanica in S'. Dopodiché, il principio di relatività gallileiano, il principio di relatività di Galilei, ci dice che le leggi hanno la stessa forma. Ok? Quindi questo è lo schema fondamentale. Si parte dal principio di relatività di Galilei, che le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i due sistemi di riferimento. Per verificare questo, dobbiamo avere delle trasformazioni che collegano un sistema di riferimento ad un altro. Ecco, in realtà, le trasformazioni di coordinate non bastano. Occorre anche determinare le trasformazioni di velocità e le trasformazioni di accelerazione. La cosa è, diciamo, abbastanza semplice. Perché? Perché se io indico con U la velocità rispetto ad S e con U' la velocità rispetto a S', questa fatemela chiamare UX, questa U'X, e in modo perfettamente analogo definiamo U'Y, U'Z, U'Y, U'Z, Allora, dalle trasformazioni di Galilei, noi otteniamo che cosa? Che U'X è uguale a U'X meno V, devo derivare questa rispetto al tempo, questa diventa DX su DT, cioè UX, questo derivato rispetto al tempo, quindi ripeto, devo derivare questa rispetto al tempo, diventa U'X, devo derivare questa rispetto al tempo, diventa UX, quando derivo questa rispetto al tempo, il tempo sparisce e rimane meno V, mentre qui le velocità sono perfettamente uguali. Dunque abbiamo U'Y uguale a U'Y e U'Z uguale a U'Z. Queste sono le trasformazioni delle velocità. Adesso noi otteniamo anche le trasformazioni delle accelerazioni, quindi devo fare la derivata rispetto al tempo, e quindi ottengo l'accelerazione prima X, qui ottengo l'accelerazione secondo X facendo la derivata rispetto al tempo, adesso derivando la velocità rispetto al tempo, ottengo 0, perché questa velocità è costante. Noi sappiamo benissimo che i moti rettilinei uniformi sono animati da velocità costante. Dopodiché qui ottengo A'Y, A'Y, A'Z uguale a Z. Ecco, abbiamo ottenuto le trasformazioni di Galilei Galilei delle coordinate, poi abbiamo ottenuto le trasformazioni di Galilei Galilei delle velocità, le trasformazioni di Galilei Galilei delle accelerazioni. E adesso facciamo una riflessione importante. Bene, una volta che abbiamo ottenuto tutte le trasformazioni di coordinate, di velocità e di accelerazione, noi possiamo porci la seguente domanda come sono fatte le leggi della meccanica. Allora, attenzione, nota bene le leggi della meccanica devono rispettare il principio di relatività gallileiano. Lo scriviamo PDRG, principio di relatività gallileiano. Allora, la risposta a questa domanda a questo punto diventa semplice. Le leggi della meccanica non possono contenere le coordinate, non possono contenere le velocità. Per quale motivo? Perché le trasformazioni di coordinate e le trasformazioni di velocità vedete che mettono in evidenza che le coordinate dei due sistemi di riferimento sono diverse e mettono in evidenza che le velocità sono diverse. Guardiamo ad esempio la trasformazione delle velocità. Le velocità U'X, U'Y, U'Z non coincidono con UX, UY, UZ. In particolare, U'X è diversa da UX perché c'è questo meno V. Quindi, le leggi della meccanica non possono contenere una dipendenza dalle coordinate spaziali e dalle componenti delle velocità. Mentre invece, le leggi della meccanica possono contenere le accelerazioni. Guardiamo le trasformazioni delle accelerazioni. Le accelerazioni nel sistema S' sono uguali alle accelerazioni nel sistema S. Difatti, le leggi della meccanica sono unicamente compendiate dalla seguente legge fondamentale forza uguale a massa per accelerazione che chiaramente non era nota a Galileo Galilei ma che è stata scoperta da Isaac Newton. Ora, questa legge che è la legge fondamentale della meccanica vuol dire che gli ingegneri costruiscono ponti costruiscono aerei costruiscono palazzi costruiscono autoveicoli, eccetera facendo essenzialmente riferimento a questa legge forza uguale a massa per accelerazione questa legge rispetta il principio di relatività gallileiano. Perché? Perché se questa legge fisica vale in esse come si trasforma in S' beh, si trasforma in questo modo innanzitutto la forza nei sistemi di riferimento inerziale esiscono soltanto le forze effettive non ci sono forze apparenti per cui la forza F effettiva in S' è uguale alla forza effettiva F' in S' dopodiché abbiamo detto che le accelerazioni sono uguali grazie alle trasformazioni delle accelerazioni e poi la massa non cambia passando da un sistema di riferimento ad un altro. se cambiasse noi potremmo effettivamente attraverso misurazioni di masse discriminare i due sistemi di riferimento. Dunque le leggi della meccanica abbiamo visto compendiate dalla famosa equazione di Newton rispettano il principio di relatività gallileiano. Quindi se vogliamo possiamo riassumere quello che abbiamo fatto con il seguente paradigma. Allora al di sopra della meccanica c'è il principio di relatività gallileiana che ci dice che le leggi della fisica nel sistema di riferimento S devono assumere la stessa forma nel sistema di riferimento S' ma per passare dalle leggi della fisica del sistema di riferimento S al sistema di riferimento S' dobbiamo utilizzare le trasformazioni di gallilei delle coordinate delle velocità e delle accelerazioni. Abbiamo anche capito che le leggi della meccanica della meccanica non possono contenere la velocità perché se contenessero la velocità allora noi saremmo in grado di discriminare il sistema di riferimento S dal sistema di riferimento S' visto che c'è una velocità relativa di mezzo. Questo fatto è da tenere bene a mente per la prossima lezione quando faremo l'elettromagnetismo e le equazioni di Maxwell cioè faremo un cenno all'elettromagnetismo e alle equazioni di Maxwell visto che comunque sono degli argomenti che abbiamo già studiato. e anche un'elettromagnetismo che abbiamo già studiato di un'elettromagnetismo e anche un'elettromagnetismo